sono l'orex mega benvenuti in questo nuovissimo video di dragon ball legends ho appena vinto una pvp comunque vi volevo dire buona pasqua come festeggiate spero che siate bene mi raccomando con tutto ciò mi sono fatto un po avanti con il cronocristo un altro m3 ma non ho avuto già prima un m3 vabbè comunque ce la prendiamo insieme e quindi vediamo se riusciamo ad arrivare a mille singolo secondo me non troviamo proprio niente questa però vabbè o sparking sparking 6 coutsi 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 e anche in quello che prima ci ho trovato zero space o che che ho trovato anche in Lareno Ricom, такого possibile mia sorella si,Sarax che pisano davanti disate che poi non l'ha trovato niente e poi tra l'altro aveva riaperto appena l'account ha preso quella l'accento e l'ha trovato poco più di un tozzo è normale l'account ha appena aperto e non aveva neanche i grilli in l'extrino neanche il tristinto quindi quindi ragazzi io vado un poco avanti con la storia ti vediamo quando ho fatto un po' più di dronogristian ciao bene ragazzi sono arrivato a 516 dronogristian se sto anche con sarax e sto tornando nemmeno davanti una star moek steam trunks io vado in pvp perchè hai detto che non valeva molto ma racconta loro la storia del ah si del go di quel goku black che diventa super saia super saian rose dai digliela allora in pratica io e sara sarax sul suo account che si è ricreato da capo di dronogristian aprivamo trovavamo un sacco di sparking di c18 poi l'ho fatta una io c'erano 5 pod però c'è lo verde no meck c'era stasine c'era star sparring e uscito cocu black rosé che si può trasformare in black rosé tra l'altro lei non ha neanche i Krillin Extreme ma vai su Dragon Ball Legends perché sono? voglio giocare la sua broca The Flory mi prendo un pochino di punto no questo qua si può mettere il Brawly che diventa Super Saiyan leggendario no lo sento no lo sento prima vabbè però non so se ero se come se sei morto ma non so ne oddio una scritta in chat se avrà scritto una cosa su Sarac italiani? italiani scrivi si non posso scrivere no no ok io ti consiglio andare là sarà che su sta giocando The Flory Floders super Saiyan leggendario super Saiyan leggendario oh mi chiamo così eh cosa senti con Super Saiyan leggendario? non so se è una finca però stiamo avendola meglio su di lui abbastanza... beh la situazione si potrebbe ribaltare però... non so quanto mi sono allenato però per portare al massimo Goku non so quanto mi sono allenato non so quanto mi sono allenato non so quanto mi sono allenato uccidiamo Veggito andate tutti distruggete Veggito aia Super Gogeta no non so non so non so non so non so no non so che c'è? no no si è morto anche Brawly ma tra l'altro ma tra l'altro tutti con Goku Super Saiyan Blue ho vinto anche io ho vinto ma tra l'altro ho vinto solo con Goku Super Saiyan Blue non so non so non so non so ma sono ma четы che va bè vediamo le storie no no Sara 30 secondi divento lava! Qua... Che sta dicendo? Ok... Se l'ho fatta! Sta a testare! Ho preso la gemma... Gigante? Quella gigante? Sì... Una gemma enorme... Gigantesca era! Non sei quando... ...tipo... Non me ne senti... Era enorme! Dovrebbe costare! Ti dovrebbe costare! Era enorme! Sì, io ne avevo soltanto di 100... Avevo soltanto 120 punti! Ora mi conto che tanto che... Tu anni hai? Di punti io ne ho due sentite questo! Ho vinto! Ho vinto! Ho vinto! Solo sei! Solo sei! Ah no! Insieme al tuo fidanzato! Io non ho fatto mai più il tornare al potere! Fa schifo il tornare al potere! È loco schifo! Niente loco schifo! Loco fa schifo! Infatti bravo! Loco fa schifo! Loco fa schifo! Loco fa schifo! Un'altra gemma! Loco fa schifo! La ho preso la gemma! Un'altra gemma gi... Sì ma... Guarda che sto Broly per me adesso è diventato Scar... Ma quante stelle... Quante stelle cintita sta gente! Io ho paura che metta il Goku Ultra! se Goku ultra è impossibile immagiarlo è impossibile portarlo a qualche stella rossa a stella Pleas questo Broly lo potrei battere non sembra molto forte non è per niente fuori perché ho capito che adesso questo Broly è diventato una puzza una puzza se fai reset di Charakter che devi giocare non è vero ok però questo lo so fare molto meglio di me è uno scudo è uno scudo protettivo e mi rigenero mi prego ma come ha fatto in realtà se oggi mi rimango tutto oddio aia tutto arveggito perchè l'ho fermato adesso perchè l'ho fermato adesso non mi bloccherà non mi bloccherà non mi bloccherà non mi bloccherà ma è un leggendario film basta 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 il film mortals è un bel film non è proprio possibile io non ho mai fatto leggendari finish gogetta è quello ad art per fare leggendari finish le funzioni le funzioni cioè se non le funzioni le piagate in assoluto perchè hanno delle delle ls assurde hanno delle ls assurde quella che ti fanno fare leggendari finish tipo quel super vegeto va bene io c'ho vegeto può diventare super vegeto però non ha quelle mosse ma non proprio tutte le funzioni sono che fattori bello tutto sto tempo la vivi almeno non ho nessuno non è vero che c'è ma non ho messo a me ma cosa ma situata ma chi te l'ha detto se una fan tu accetta la mano di dubbio mi hai detto ma non è vero as REAL cosa fa ma non è vero e fanno il lorenz mecca? ma davvero come fai a vincere così? mentre ero in camera era troppo molto magico avevano riempito tutto il telefono tutto il telefono sti due cittadini si si oddio ha un ls troppo non l'ho mai usata non l'ho mai usata ma l'ho usata da un troppo super salone fra è Scotto sì vuol dire che ha detto una parolaccia si DD perché lei non vuole scrivere astagastagastagastag aprile, aprile, aprile come sarebbe stato aprile dai che cosa? 500 598 cronocriti guardate c'era in verno tutto il telefono top e maginbun tutto il cellulare top e maginbun top e maginbun c'è all'occhio non parlare perché adesso schifo oddio ma è charlotte di terzo livello è charlotte di terzo livello? charlotte può diventare di terzo livello? mio charlotte diventa super saiyan di terzo livello di terzo di terzo livello ma diventa super saiyan god tra poco terzo livello grande così grande è charlotte di terzo livello ma proprio si è trasformato è proprio charlotte di terzo livello che bella il mare ma si ricarica subito è charlotte di terzo livello è charlotte di terzo livello ma si ricarica subito si è ricarica subito no no è charlotte di terzo livello con charlotte di super saiyan di terzo livello non so che lei devo fare perchè non so che lei sapevo di fra 9 di 10 secondi mi sapevo di essere la trasformazione mi sapevo di essere la tristica infine la tristica io non non così la tristica ho vinto Guarda che sto registrando, si tutto, si. Campione Nicolai, si sta andando ancora. POLLICIATE! Ma è vero il taglio? Si, adesso. Polliciate, iscrivetevi al canale, polliciate, iscrivetevi al canale. Se volete che Sarax spenda i suoi tanti. No, Sarax. No. Per YouTube lo faresti. Dai, tu per i fan lo faresti. Si, soltanto per loro, non perché. Ma come ti permetti? CRISTALLO! Poi, guarda, ma se ne si accorta di una cosa. Quasi. Ma perché non è diventato lava? Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepee. è una buona zombetta ha aperto super saion di terzo livello sarà guarda diventa più forte è diventato più forte è un salmotto al terzo livello no io lo voglio io no è fortissimo shallot del super saiyan di terzo livello no 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 è una bomba ragazzi no 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 saltetta no no anche hanno pochissimi secondi knockback 10 ho 287 punti e tu quanti sai però se i numeri devi spendere per i fan allora vuoi che ti vanno da canale prendeglielo prendeglielo ho preso Giorgix no l'ha preso lei la bomba c'è la bomba ha preso le monete ti fanno prendere nemmeno una moneta che cosa ti fanno prendere? le mosche? nemmeno una moneta le mosche secondo me i sarax ti fanno prendere le mosche è vero spera Genki non si non si se mi fanno mettere la socia da una parta e contro una jumbo non si con la licea no si no 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 Ohhhh! Ohhhh! No, no. Spuddy smaggm no di poco secondo me diventerà su un passaglia un god nonno no 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 Ma perchè io canti di B-Legend? Quante luoghe lasciate Io sto per che Dai mille cronogridal Sto facendo una piccola prova con Goku 3 Voglio esercitarmi un poco Perchè lo posso usare in questa prova Guardate che bello Che figo Posso provare quanto voglio Ma che figo è questo Goku? Oddio Oh boh che figata Le sortite Le lefe Lo vuoi usare in tutto? Lo sto facendo in prima prova Guardate ma te bello Guardate ma te bello Ma mea ma aminti un moment C'e trompa Cristof Ma voi ce ducie Guardate io ce le odiciu Lo stai in giro Lo stai in giro Ma se lecina di giro Lo stai in giro Ma che figa è qui Lo fai che figo, che figo, che figo, che figo, proviamo con Jetta avete capito? un po' come se dovete andare su i personaggi del banner e poi, youtube site, secondo me è molto forte, vabbè sì, beato cricchiazza che c'è gogetta, lo sto trovando, lo sto usando, non ho usato ancora i suoi attacchi più forti, di nuovo, ok ce l'ho uno, grazie a me è una figata pazzesca ma adesso siete pronti per vedere la LF di gogetta, è abbonato cricchiazza, guardate, è stuponda, è stuponda, è stuponda, cioè ma secondo me leggendari finisce lo farei di sicuro, io non l'ho mai fatto però troppo scoperta con qua, e gli ho densato ma anche Tristanx me lo porto è fortissimo, è fortissimo, però go ultra istinto mi piace tanto sarà, ma tu fra dieci vittorie puoi sbloccare un petto, lo so perché ne vogliono cinquanta, ne lo vuoi? vabbè però prenditi quello, cioè, bene ragazzi, pure in questa dobbiamo usare per forza Charlotte, no, però me lo metto comunque, perché Charlotte, terzo livello è fortissimo che è il tuo personaggio preferito? Mortis, ma non di Brawl Stars, di Debbie, eh, qualsiasi lo puoi usare, Joker, quello di Smash Bros, e allora... il Goku ultra istinto? Krilin! ma come? ma come? ma tu lo sconosci si bannato al canale è vero e Prilin non è vero, perché tu l'odio a Krilin si è Krilin vabbè vabbè bannato dal canale, oggi è l'ultimo video di Sara sta spezzando l'avete visto va bene, dico la verità, Janca non è vero ma non è vero perchè tu lo sbocchi sempre, poi, amici va bene, dico la verità, leggite si che è giusto si che è giusto l'uomo è giusto a lui e allora puoi provarlo se lo sbocco io cosa fa? non è Goku stress vabbè, lo so vabbè, ma non c'è anche mio lo so mio il vero nome di Sarax non è Sara mia veramente è vero, è vero Sarax sei mia sorella, perciò io sono i tuoi veri nani non è vero ti piace troppo Sarax? ma in realtà lasciate non mi piace cioè no 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 se è vero mi piace va bene Sara, 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 Sara voglio vedere cosa succede quando quel tempo scade torno normale o torno con passagliano no se mi torna con normale no aia no sto morendo pochissimo ho perso mi ha ucciso Majin Buu mi ha ucciso Shacklo oh tocutocos tocutò 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 bene ragazzi buoh buoh non ancora Sarx comunque ragazzi ho fatto un taglio che è durato un'ora sono arrivato a mille crono Christmas io sono pronto ma che dico prontissimo per prendere un consecutive salmon vai dai dai si prego vai no un'ora oddio ma oddio ma mi ha fatto un fake out incredibile sono tutte iro sono tutte iro sono tutte iro che tra l'altro già nuovo mister satan ho buttato un'ora un'ora ho buttato oddio conseguitive summon free poverino conseguitive summon free dai 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 tu dai tu dai 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 si su passaglia jean Sara dai 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 l'orex sparking c'è io non so che troverò vai l'orex vai l'orex non so neanche se c'erano due sparking una sparking di ciampa per un'altra volta mi sta tanto vabbè ok ok ora mi vuole ricarica batterie 59 che mi stavo ascoltando io ma l'ho trovato mi stavo ascoltando una nuova canzone e tu e io stai che sta 20% vediamo quanti step ci sono 4 allora per questo mi dispiace non te lo darò mai bene ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto noi ci vediamo dopo il prossimo video ciao